Un campionato di Manuel Sarau che va a prendersi l'abbraccio della panchina che lo sommerge 1-0 Catania con la firma del centravanti milanese Sarau viene fatto giocare per questo tipo di azioni qui per sfruttarne le capacità aeree per invogliare i compagni, in questo caso gli ricordo, andare sul fondo a crossare infatti Sarau ringrazia il 32 e questo è l'abbraccio che celebra il gol segnato dal Catania cross col destro di Chiricò Sarau bravissimo ad anticipare il difensore che lo stava controllando a metterci la fronte, non ha colpito nemmeno in maniera pulitissima l'efficacia